Quando la solidarietà chiama, Confapi Industria Piacenza risponde. Ammonta 15.000 euro la raccolta fondi avviata dall'associazione guidata da Giacomo Ponginibbi e destinata alle popolazioni ucraine attraverso l'aiuto della Croce Rossa di Piacenza. La donazione è stata consegnata nella sede di Confapi Industria Piacenza alla presenza del presidente Ponginibbi e del direttore Andrea Paparo, oltre che di Alessandro Guidotti, presidente di Croce Rossa Piacenza. Una donazione importante che abbiamo fatto con il sostegno di tante aziende, di imprenditori che sono all'interno di Confapi. È un segnale, un piccolo gesto perché ci teniamo soprattutto a far capire quanto il tema umanitario sia importante. Ovvio che noi tutto quello che possiamo fare per aiutare queste povere persone che stanno vivendo un dramma personale importante, cerchiamo di farlo. La Croce Rossa italiana merita soltanto come altre associazioni anche il nostro sostegno e poi in questa occasione voglio anche ricordare e ringraziare anche alcuni imprenditori di Confapi che hanno messo a disposizione anche degli alloggi per i profughi. Anche questi gesti sono importanti perché in questo momento tutto serve. Un grazie a Confapi Industria e agli imprenditori che hanno partecipato a questa raccolta veramente importante e io qua mi sento Croce Rossa, si sente di casa. Non è la prima volta che questa associazione ci sostiene nei nostri progetti, nelle nostre iniziative. Oggi questo finanziamento servirà per poter aiutare tante famiglie di ucraini che sono donne e bambini, soprattutto minori, che sono venuti sul nostro territorio. Ad oggi sono oltre 1.500. È importante che il territorio ci sostenga così come ha fatto oggi Confapi Industria. Grazie a tutti.